Miranda Piani, quali sono i numeri che raccontano la vostra attività nel 2017? Noi abbiamo avuto circa lo stesso numero di nati dell'anno scorso, più di 50 bambini che sono nati e poi ovviamente abbiamo anche di quelli che abbiamo assistito che sono nati, magari non sono venuti da noi prima della nascita ma sono venuti dopo, quindi abbiamo seguito le mamme, abbiamo avuto quest'anno un maggior numero di mamme italiane, cominciano così, abbiamo anche avuto la fortuna di intercettare delle mamme che erano incerte sul fatto di tenere il bambino o no e invece hanno accettato poi di tenere il bambino. Cosa chiedono le famiglie che si rivolgono al centro? Chiedono proprio prima di tutto di essere accolte e sostenute nei loro bisogni, poi proprio anche il bisogno di raccontarci la loro situazione, di sfogarsi e poi certamente di essere aiutate a ricevere tutto quello che può servire per i loro bambini. Sono contenta quando diamo il corredino, quando a mano a mano che il bambino cresce, diamo tutto l'occorrente, insomma si sentono più serene. E proprio per dare sostegno al centro di aiuto alla vita, oltre che rivolgersi direttamente alla sede che voi avete a Sondrio, sabato e domenica appuntamento da non perdere. Certo, fuori da tutte le chiese, le volontarie del centro di aiuto alla vita offriranno le primule che sono appunto state indicate come il simbolo della vita nascente e in cambio di un'offerta le persone potranno ritirare queste primule. Sabato sera nella cappella dell'ospedale, la veglia di preghiera. Certo, sarà la quarantesima veglia per la giornata per la vita con il messaggio del Consiglio Episcopale Permanente e il titolo di quest'anno è Il Vangelo della vita, gioia per il mondo.